Ciao sono Antonio, imprenditore digitale, in questo video vediamo insieme come andare a trovare le keyword più profittevoli per quanto riguarda la pubblicazione di libri su Amazon e quindi per chi fa self-publishing e quindi chi vuole ovviamente può accedere al corso che spiega tutti i metodi migliori, che spiega anche come strutturare questo business e quindi può accedere a self-publishing domination che trova in descrizione oppure nel link nel primo commento in evidenza e quindi poi potrà decidere di fare accesso al corso per iniziare questo tipo di percorso ma in questo video appunto andremo a vedere uno di questi metodi che è uno dei migliori proprio per trovare delle keyword ovvero degli argomenti, insomma delle parole chiave su cui puoi pubblicare un libro su Amazon e quindi per creare un libro tramite un ghostwriter quindi non scritto per forza da voi ma appunto fatto scrivere da un freelancer che si occupa di questo e poi ovviamente pubblicando il libro in modo tale da guadagnare il più possibile ovviamente perché usiamo uno strumento di un software in questo caso Helium 10 perché così possiamo verificare quante vendite magari fa quella data parola chiave così da noi inserirci su quella parola chiave e vendere anche un nostro libro e quindi fare anche noi insomma delle vendite e quindi dei guadagni tramite questo quindi non possiamo pubblicare qualsiasi libro che ci venga in mente ma dobbiamo pubblicare quel libro che ci permette di guadagnare in maniera praticamente certa perché sappiamo facendo questo tipo di ricerca che c'è un mercato ci sono delle persone, dei potenziali clienti interessati riguardo appunto l'argomento su cui stiamo pubblicando il suddetto libro e quindi il software che secondo me è il migliore per poter fare questo tipo di ricerca così come anche serve ad altre cose appunto per quanto riguarda il nostro business di self publishing è Helium 10 questo software appunto se voi andate in descrizione potete andare ad acquistarlo anche con una scontistica e quindi poi andrete su pricing dove si possono vedere insomma tutti i piani che presenta Helium 10 e poi potete usare il codice sconto FBA50 scritto tutto maiuscolo come sto facendo adesso e poi lo andate ad applicare e quindi di conseguenza qui ci sarà tutto scontato ovviamente in questo caso stiamo vedendo i piani annuali voi ovviamente andate a togliere questa spunta e mettete i piani mensili perché già comunque basta prendere Helium 10 per un mese facciamo insomma la nostra ricerca e poi possiamo anche disdire l'abbonamento quindi semplicemente lo usiamo per quando effettivamente ci serve perché altrimenti non ha senso andiamo soltanto a spendere dei soldi inutili mentre appunto per il primo mese ovviamente è essenziale da andare ad usare secondo me e quindi di conseguenza con questo codice sconto FBA50 potete avere appunto come vediamo da qui il 50% di scontistica il piano che insomma dovreste andare a fare secondo me è quello Platinum perché appunto ha quelle caratteristiche dell'account che ci permette proprio di fare quello che vedremo oggi e poi anche quello che è presente dentro il corso perché appunto si possono fare anche altre cose aggiuntive non solo quello che vedremo in questo video tramite Helium 10 proprio per andare a insomma trovare proprio i libri migliori da andare noi a pubblicare quindi appunto il Helium 10 costerebbe 99 dollari mentre così tramite questa scontistica lo possiamo avere a 50 dollari che poi sarebbero circa 47 euro attualmente ma detto questo vediamo nel dettaglio come funziona questo tipo di software e in particolar modo andremo a vedere uno degli strumenti che secondo me è uno dei migliori che possiamo andare appunto ad usare lo strumento si chiama Black Box proprio per fare appunto la Product Research quindi questa ricerca del nostro libro in questo caso e quindi qui lo troviamo nella sezione Tools appunto come primo su Black Box quindi ovviamente poi se voi andate ad acquistare Helium 10 avrete un vostro account appunto avrete questa schermata e appunto vi basta andare su Tools e poi Black Box allora ricordiamoci che ovviamente in base al mercato dove vendete il vostro libro dovete selezionare appunto il mercato di riferimento qui quindi il mercato solitamente su cui si pubblicano i libri è quello americano perché ovviamente c'è molto più pubblico e quindi si possono fare anche un maggior numero di vendite solitamente e quindi qui ho messo Amazon.com se ovviamente vendete in un altro mercato potete mettere anche quello quindi Amazon.com adesso l'ho rimesso così me lo insomma genera lo strumento poi categoria ovviamente andiamo a mettere solo libri e poi anche possiamo come vedete da qui mettere delle specifiche insomma per vedere soltanto quei libri che magari appunto guadagnano come minimo ad esempio 10.000 dollari al mese quindi che si vende un certo numero di copie che fa guadagnare all'autore almeno questo tipo di insomma introito e quindi ovviamente quello potrebbe essere anche un tipo di ricerca interessante da andare a fare oppure possiamo basarci sul prezzo ad esempio possiamo mettere che deve costare il libro almeno ad esempio 8 dollari e così via però secondo me il parametro quello diciamo fondamentale quello migliore da andare a mettere adesso giusto per farvi un esempio andiamo a mettere questo poi appunto potrei mettere e settare qualche altro insomma possiamo mettere quello del review count quindi il numero di recensioni che è presente per quello specifico libro su Amazon perché è bene insomma mettere ad esempio un massimo di recensioni perché ovviamente se c'è un grosso numero di recensioni ci sarà molta competizione per quel libro e quindi sarà più difficile andare noi ad intrufolarci in quella nicchia in pratica mentre se c'è un numero di recensioni più basso sarà una nicchia meno satura e quindi sarà più facile andare a guadagnare noi vendendo quel libro perché appunto possiamo benissimo farci conoscere più facilmente e quindi ovviamente sarebbe meglio puntare per una nicchia che non ha tutto questo gran numero di recensioni ad esempio un massimo che possiamo impostare qui è di 300 recensioni che già va bene poi ovviamente più lo andiamo a fare specifico più lo mettiamo basso la nicchia ovviamente sarà sempre meno satura comunque già appunto un numero come 300 recensioni va benissimo quindi poi possiamo fare appunto search e quindi cerchiamo questi libri ovviamente andiamo a scartare tutti quei libri che sicuramente non ci interessano quindi che non hanno parole chiave nel titolo come in questo caso che sicuramente insomma su cui noi non possiamo pubblicare un libro ovviamente Batman ha il copyright e quindi noi non possiamo pubblicare un libro del genere questo lo scartiamo a priori questo NURS Executive Review insomma sarà probabilmente un manuale magari un libro universitario per chi vuole fare l'infermiere quindi ovviamente lo scartiamo perché ovviamente noi non andiamo a pubblicare dei libri universitari start right now teach and lead for excellence volendo questo potrebbe anche andare come parola chiave da cercare se appunto può essere interessante su cui pubblicare un libro non tanto questa all'inizio ma possiamo cercare magari teach and lead for excellence e vedere se appunto dentro Amazon può essere interessante pubblicare con questo tipo di parola poi anche vediamo quindi Addicted to Rehab questo non mi ispira parecchio però ovviamente sempre anche in questo caso possiamo verificare questo parla di Bibbia questo assolutamente no questo direi nemmeno questo neanche questo è un libro sul gioco Far Cry quindi no questo neanche ad esempio Awakening potrebbe essere una parola da abbinare magari a qualcos'altro anche che ci viene in mente a noi anche che magari ci autosuggerisce Amazon quando cerchiamo la parola quindi possiamo fare anche questo vediamo Encouragement the unexpected power of building others up ecco anche qui ci sono delle parole che volendo possiamo usare per verificare se ci suggerisce Amazon magari qualcosa su un libro da pubblicare e quindi con questo che cosa intendo vi faccio vedere allora per esempio abbiamo detto Awakening perfetto l'andiamo a verificare subito andiamo su Amazon.com in questo caso perché vogliamo verificare insomma nel mercato statunitense mettiamo uno zip code americano quindi andiamo qui su Deliver mettiamo invece che su Italy uno zip code che magari è statunitense e quindi un codice di avviamento postale quindi basta cercare ad esempio Los Angeles, New York o qualsiasi altra città zip code quindi 90 001 potrebbe essere adatto al caso nostro apply e poi continua perfetto poi ovviamente qui andiamo a selezionare i libri, i books e poi andiamo ad incollare Awakening e vediamo anche che cosa ci suggerisce Amazon in questo caso adesso a me suggerisce anche altre cose perché questo è un altro tool che io ho immesso che faccio vedere anche nel corso che mi suggerisce altre parole aggiuntive nel vostro caso probabilmente se cercate la stessa parola vi fa vedere soltanto questa sezione e comunque appunto possiamo vedere per esempio Awakening for vediamo insomma che cosa ci fa vedere insomma possiamo anche noi mettere delle lettere e vedere se c'è qualcosa di interessante insomma tra queste non è che ci sia granché forse Awakening the Chakras e questo potrebbe essere un qualcosa su cui noi possiamo pubblicare quindi facciamo scrivere ad un nostro freelancer, ad un nostro ghostwriter un libro sui chakras che è un qualcosa anche di abbastanza venduto quindi sulla meditazione e cose di questo tipo e qui appunto possiamo poi usare il tool di Helium 10 che si chiama X-Ray quindi per andare ad analizzare tramite l'estensione Chrome e vedere insomma qual è il BSR, qual è il numero di vendita e quant'altro di questi libri e quindi il BSR sarebbe questo di qui in questo caso è di 1.151.993.1.219.000 eccetera eccetera e il BSR ci serve per capire quanto quel libro sta vendendo perché alle volte appunto non si vede nel grafico qui insomma certe volte lo fa vedere certe volte non vi dà l'indicazione o quantomeno nei libri quindi invece con questo ovviamente si capisce meglio e dovrebbe essere insomma un BSR inferiore a 100.000 perché più è basso e più il libro vende quindi ovviamente un BSR di 1.999.000 eccetera eccetera è troppo alto vuol dire che il libro non vende molto a parte questo che già vende di più quindi ha un BSR di 84.000 e qui quindi possiamo vedere altre parole chiave sempre per noi farci un libro quindi sempre Mudras for Awakening Chakras possiamo vedere che cosa vuol dire anche questo Mudras io ad esempio non lo so e poi anche ci sono tantissime altre parole chiave come Simple Hand Gestures Balancing Your Chakras e quindi insomma possiamo vedere che ci sono tante parole su cui noi possiamo fare affidamento magari e qui ad esempio qua ha un BSR ancora più basso di 18.000 quindi questo libro vende ancora di più e abbiamo trovato insomma tutto quello che riguarda l'apertura del terzo occhio Kundalini Awakening è anche una parola insomma che è molto cercata su Amazon e questo è vero anche Energy Healing quindi insomma guarire tramite magari l'energia tramite i chakra insomma sono tutte cose magari che interessano ad una certa nicchia di persone quindi c'è un mercato per quei libri e quindi se noi ci pubblichiamo ovviamente tenendo in considerazione determinati fattori che spiegano il corso allora può avere un senso e ci possiamo andare a guadagnare su quindi se noi torniamo su Ilion10 appunto possiamo fare lo stesso per tante altre parole che insomma qui ovviamente ci può suggerire questo strumento parola a cui magari noi non avremmo mai pensato ecco ad esempio qui abbiamo The Texas Food Bible From Legendary Dishes to New Classics quindi praticamente sarebbe un manuale di cucina texana quindi possiamo magari invece di mettere magari Texas Food Bible magari Texas Food for Beginners Texas Food Recipes quindi ricette insomma possiamo ovviamente anche noi cambiare quelle parole per trovare quello magari che può essere più ottimale per guadagnarci tramite la pubblicazione di un libro poi scendiamo questo direi che non va bene insomma non vedo niente di interessante qui nemmeno vedo delle parole che insomma possono essere ottimali ovviamente poi si può anche verificare per qualsiasi parola però sarebbe meglio una frase un po' più lunghetta per poi cercarla su Amazon ad esempio managing risk o in information systems oppure managing risk quindi gestire il rischio mi fa pensare anche ad esempio al mercato finanziario quindi managing risk in trading in financial qualcosa e quindi poi ovviamente cerchiamo delle parole poi Amazon ovviamente ci dà altri suggerimenti e quindi possiamo fare questo e vedere qual è il libro migliore magari su cui pubblicare andiamo anche a pagina 2 giusto per continuare anche la visione di questi libri qua c'è un libro su Udini quindi non va bene questo neanche questo direi nemmeno vediamo questo insomma potrebbe avere delle parole come zen like riddles insanely difficult puzzle insomma questo è più forse un libro con dei insomma dei puzzle un qualcosa magari più visivo insomma possiamo vedere anche se è un qualcosa su cui ci possiamo focalizzare questo è il lego poi anche abbiamo questo manuale per poter fare insomma dei cabinet per la cucina e quindi possiamo cercare anche questa parola quindi how to make e può essere anche questo kitchen cabinets così come anche vi può suggerire Amazon o qualcos'altro oppure pensate voi qualcos'altro così come può essere build, upgrade, install qualcosa e quindi ovviamente questo può essere anche un tipo di frase da poter mettere su Amazon per avere insomma delle idee sul libro anche qui abbiamo delle parole interessanti secondo me quindi reclaim your creative freedom master story structure scusate se magari qualche parola magari la sbaglio in inglese comunque per farvi capire appunto più o meno come funziona questo metodo e quindi mano a mano trovate tutte queste parole le mettete su Amazon e poi verificate appunto se c'è un mercato tramite l'estensione Chrome di Helium 10 che appunto serve poi per vedere questo tipo di mercato mentre lo strumento quello là ci fa insomma dei suggerimenti su dei libri da poter vendere quindi come vi dicevo in descrizione trovate il mio corso self publishing domination e poi trovate anche il modo per poter accedere alla pagina di Helium 10 per poi appunto usare questo tipo di strumento e quindi appunto potete usare il relativo codice sconto FBA50 lo applicate e poi appunto potrete andare ad acquistare alla metà del prezzo il piano Platinum quindi spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento spero che possa essere stato utile potete lasciarmi un mi piace se così è stato iscrivervi al canale per vedere successivi caricamenti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti